Guarda come sei vestito per fare il viaggio. Beh, ma stiamo andando a Parigi, eh? Mica Romano Lombardo. Allora, Jenny, che dici? Come ti sei a me sto pulotto? E come stai? Ho detto a pulotto, no puletto. Ti piace? Ok, non importa. Ma che te sei impazzito? Un cast irresistibile. Il son di gente. No, per cavolo. Per chi sposa. La commedia all'italiana. Che bello. Matrimonio a Parigi. Domenica alle 21.20. Su Italia 1. Su Italia 1.20.